Siamo al Teatro P E stasera si terrà praticamente uno spettacolo, è una replica mi pare, giusto? Che è Casi Clinici Sì, si intitola Casi Clinici che è un po' un insieme di personaggi che a loro modo sono dei casi clinici, con ognuno di loro è un caso clinico E qui bisogna scoprire che tipo di caso clinico è, ognuno di noi è un caso clinico a questo punto? Sì, che è un caso clinico con delle problematiche fisiche, che è un caso clinico con delle problematiche psicologiche nel mondo l'oggi Siamo tutti un po' dei casi clinici Io adesso voglio leggere due passaggi di una parte che tu reciterai ma non voglio togliere agli spettatori la suspense Inizi così, ecco, così doveva finire, la città si è avviluppata tra le sue stesse espire e ne è rimasta soffocata E poi continui e concludi, ecco, ci vorrebbero dei nuovi cittadini che possono far ripartire la città La città la possiamo intendere come una città ma anche, visto che siamo in periodo di elezioni, come una nazione Una nazione, il mondo intero, che io interpreto il personaggio di Maron, così si chiama Questo personaggio è un po' una specie di ingegnere informatico Sopravvissuto ad una guerra batteriologica che è atomica Che si trova ad avere davanti dei sopravvissuti Delle persone che sembrano morte Ma in realtà sono dei sopravvissuti ai bombardamenti atomici E io, grazie ad un algoritmo, che insieme al mio assistente, che si chiama Android Facciamo risuscitare, cura per volta, questi personaggi Quindi è una storia, a questo punto post-apocalittica E che comunque tu dai il tuo contributo per cercare di far rinascere queste persone È una sorta di riscatto? Sì, non faccio solo questo perché pure alla fine racconterò una storia Che è incentrata sul tema della disabilità Nella quale dirò che ciascun essere umano può essere una risorsa per l'altro Anche se è impossibilitato nei movimenti Ci sono dei personaggi, hai detto, all'interno di questa... Non è una commedia, giusto? No, che si tratta di uno spettacolo di teatro contemporaneo Non è una commedia, quindi All'interno di questo spettacolo contemporaneo C'è qualche personaggio che, a parte quello che tu interpreti Rappresenta, potrebbe vedersi, insomma, qualcuno di noi in particolare Per esempio c'è la ragazza con delle presunte turbe psicologiche La signora insofferente sulla spiaggia Il ragazzo che non sopporta nessuno Ma sopporta solo alcune cose Non sopporta nemmeno se stesso Fino ad arrivare poi canozzi personaggi che non voglio rivelarli È ovvio, cioè dobbiamo cercare di creare suspense Quindi non possiamo rivelarli Però mi ponevo una domanda Casi clinici, partiamo dal testo, giusto dal titolo Giusto per far venire, diciamo, la voglia di venirvi ad osservare Dicevi che è la terza rappresentazione Giusto, ok Si possono aggiungere dei personaggi? In queste tre rappresentazioni che ci sono state Ti sono venute in mente magari degli altri personaggi da aggiungere Degli altri casi clinici da aggiungere Visto che comunque giri molto E la possibilità di vedere persone E quindi vedere anche Il spettacolo è sempre variato nei personaggi Quindi non siamo aperti come tema Quello dei personaggi Ci sono tanti casi clinici Che potremmo inserire oggi o domani Nel spettacolo Che è molto aperto da questo punto di vista Antonio Saffioti è praticamente un personaggio poliedrico Tu ormai stai facendo lo scrittore Stai facendo l'attivista per i diritti Non solo delle persone, diciamo, disabili Ma in generale per i diritti civili Ti abbiamo visto veramente interessarsi tante tematiche Sei adesso un artista di teatro Non ti fermi mai? Cioè sei sempre in movimento? In continuo movimento? Mi piace sempre Che essere utile alle altre persone Per quanto possa farlo Cerco sempre di aiutare con il mio impegno le altre persone Dico l'ultima parola Perché poi ti lascio Perché giustamente voi state facendo ancora le prove Questa sera alle 20 ci sarà proprio lo spettacolo Domanda proprio così D'Amblè La politica è comunque Fa parte sempre insomma Della vita di tutti i giorni Anzi dopo domani si andrà alle elezioni Il 4 marzo Cosa pensi che l'Italia Diciamo farà dopo quella giornata Se cambierà qualcosa E soprattutto quello che realmente manca all'Italia O anche un paese come la Mezzia Una città come la Mezzia Che magari ha delle controverse Situazioni al suo interno E magari situazioni che potrebbero essere Sicuramente migliorate L'importante è quello che dico a tutti L'importante è andare a votare Poi ognuno è libero di scegliere Chi vorrà Quello che mi immagino Per il futuro sarebbe un'Italia Dove il diritto al lavoro Sia di nuovo un diritto Perché negli ultimi anni si è perso come diritto Ne parlano tutti Ma secondo me Si è svuotato come diritto Quindi ho come ripartire Da lì secondo me E non farsi condizionare Però nel voto della paura Del migrante Del diverso Perché con la paura si perde Tutta la politica ne perde Perché la politica è qualcosa di più alto Della paura Qualcosa che non può essere condizionata Da queste cose Da La politica In fin dei conti Che è l'unica arma che abbiamo Per cambiare le cose Tu veramente stai utilizzando anche un'altra arma Devo dire la verità Che è quella del teatro Che è una bellissima arma Anzi Tip Ho scoperto che poi è una realtà associativa Quindi si si può associare Si può venire qui alla Mezzia Poter far parte del teatro penso Chi volesse insomma farne parte Si possono fare varie attività C'è la biblioteca galleggiante Nello spettacolo Nelle biblioteche maggiori Sud Italia Per quanto riguarda lo spettacolo Poi si organizzano tante rasseglie teatrali E i semplici laboratori A cui chi è interessato Può partecipare Io è da un anno e mezzo Che frequento questo spazio E che faccio I laboratori teatrali Anche quest'anno Verso giugno o luglio Faremo un nuovo spettacolo Ma non abbiamo anticipato rientro adesso Quindi bisogna seguire le attività di Tip C'è la pagina internet Pagina Facebook Sicuramente Poi comunque possono parlare con te Basta che ti contattino su Facebook E chiederti informazioni Io mi sono iscritto Ho fatto la tessera Giusto questa sera Quindi invito gli altri a iscriversi A fare la tessera Anche perché ho scoperto che tra l'altro È gratuita E poi si fa un contributo Ed è ovvio Ci sono le magliette Ci sono tanti gadget Quindi perché non far parte Anche di questa bellissima realtà Diciamo che poi Nella nostra amministrazione della città Questo è diventato quasi L'unico spazio teatrale della città Perché come sappiamo Tutti i teatri della città Che hanno avuto delle vicissitudini Crescenti E sono quasi Del tutto non funzionanti Quindi Che una boccata di ossigeno Per tutta la città Perfetto Io ringrazio Antonio Saffioti Casi clinici in questo caso È lo spettacolo teatrale Poi ci sarà altro Diceva quest'estate Quindi seguitelo Riccardo Cristiano Liberi TV La Mese Terme Perfetto 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 Perfetto